ore 4 e 57 5 meno 3 ho dormito qualcosina un pochino un po' sbattutello lì, dormito lì schifo vero questa è ok puoi piegare schifo, facciamo la foto alla testa lì che schifo oh vi dirò non è che si è scomodissimo però perchè tu non ce l'hai fatta dove ce l'hai fatta 25 minuti no, così non gioca ma c'è fiato e niente, dobbiamo dormire di qua qua dietro e devi far vedere anche la mochetta con una faccia di schifo mettiamo qua dietro che schifo la polvere è stato tu la polvere ho appena detto qui puliscono tantissimo che schifo per te la polvere è pulita sembra un pochino è un pochino e vabbè c'è la giubbotta la stampa quando vuoi fuori da casa è normale comunque sono di 5 è già abbastanza popolata la situazione questa è la tua lettera è da un bel po' che ci sia la polvere un po' un po' si no poi andiamo lì a aspettare di nuovo altre 4-5 ore non è a lei comunque un po' di stress bene no? non è a lei beh, non c'è un dubbio comunque e poi a dormire anche nel fuoco ma non ci sono 5 ore 5 ore è cazzo non dormire eeeh e niente dai adesso mi sono detto di tenerla quindi vabbè niente ci sentiamo vi aggiorniamo eeeh